È un no deciso e definitivo quello delle ACLI della provincia di Arezzo al gioco d'azzardo. L'associazione si è recentemente impegnata in una campagna di sensibilizzazione e di lotta contro le dipendenze in cui ha dato espressione al proprio impegno sociale partendo dai territori e quindi dai 43 circoli della città e delle vallate. Questi sono infatti centri di aggregazione e di socializzazione al servizio delle comunità locali e dunque le ACLI hanno voluto farne luoghi ispirati ad una vocazione cristiana e civile in cui fosse escluso ogni tipo di gioco d'azzardo e slot machine. L'ultimo circolo ad aver definitivamente eliminato le proprie slot è stato quello di Pratantico dopo mesi di vicende legali contro la società proprietaria di tali macchine. Adesso ha ottenuto dall'avvocato il via libera a procedere al loro spegnimento. Abbiamo ottenuto un gran successo, commenta Stefano Mannelli, presidente provinciale delle ACLI. Ci congratuliamo con il circolo di Pratantico, in primis con il suo presidente Marco Sguerri per la tenacia e la convinzione con cui ha trovato una soluzione definitiva al problema del gioco d'azzardo all'interno dei locali delle ACLI che ora risultano completamente ripuliti dal rischio delle dipendenze. In nessun circolo sono infatti più presenti slot machine. Con questa operazione le ACLI di Arezzo hanno voluto lanciare un forte segnale ai loro 6.200 tesserati e all'intero territorio con una scelta che ha sicuramente portato alla rinuncia di alcuni guadagni ma che ha fornito ad ogni circolo un volto più umano e più etico.